Eccomi eccomi davanti a te No ma sei più di uno Siamo due, sono io Siamo due, siamo due Siamo in live su Facebook Gaming in questo momento Quindi siamo in diretta Non vi preoccupate, non vi voglio scammare Però possiamo vincere questa partita insieme La possiamo vincere insieme Non ti preoccupare, non fa nulla nemmeno lui Tranquillo, tranquillo Quindi possiamo vincerle insieme questa partita Se volete Dai Dai cazzo Forse possiamo anche andrarti insieme Aspetta vediamo se ti riesco Ecco ecco guarda Sì 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 Ti ho richiesto di entrare in squadra Ti è arrivata qualcosa? A meno Aspetta Prova tu Prova tu Prova tu Prova A fare una cosa Vai prova prova In vita giocatori vicini Esatto È completo Vedete che siamo in coppia Però possiamo collaborare ragazzi Vogliamo collaborare Dai dai cazzo Portiamoci sta vittoria Alla fine ce ne andiamo a pugni Fra noi quattro Che dite? Sì Non ci arriviamo Però Dici che non ci arriviamo Però Però State Mi vicini Siamo attaccati ragazzi Siamo attaccati Tutti attaccati Amico mio non lo sentite Perché è la chat di prossimità disattivata Andiamo Andiamo Ok andiamo Allora Ti sento Allora io seguo te Ti senti? Presto Ti sento Ok top Allora Ah vi sentite tutti Ah top Perfetto Ci siamo trovati Una storia strappa lacrime Vediamo Questi Eri voi Eseguiti davanti a mia Sì No Per non evitare Andiamo belli uniti Belli combatti Che bellezza Con questa chat di prossimità È fantastica ragazzi Cioè Io non so Cioè veramente Ho fatto cose con sta chat Allucinanti Credetemi Oh finalmente Io l'ho appena fatta una cosa Uno mi ha detto Che voleva soldi Voleva soldi Voleva soldi L'ha ammazzato Vabbè L'ho fatto bene No ma in generale Era un bambino Parlava inglese Parino Cioè non avete idea Io L'altro giorno Non so Magari l'avete anche vista Su tiktok Sta clip Cioè in singolo Ho fatto una squadra Da cinque persone ragazzi Basta non vi devo dire altro Cioè cinque eravamo in singolo Tutti assieme Pazzesco Vi giuro Pazzesco Oppure stamattina Abbiamo fatto una rapina a uno Stavo troppo divertendo Di queste cose Di dove siete ragazzi Di dove siete Toscana Grande Entrambi toscani Eh te sei lontano Sì sì Sono tutti e due toscani E non ti sente quell'altro Perché è lontano Ah ok 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 Toscana Allora vediamo un pochino Andiamo qua sopra Al carrello Magari c'è gente Eh sì Andiamo sopra Andiamo sopra Magari c'è gente Fra mi senti Oh 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 Ho sentito uno morire Sì è qua Ok Oh c'è Sì 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 Due due da Vai Ah no Eh guys What are you doing? Sì sì no ma C'è due qua T'ho visto due addosso Te ho detto cazzo Dove? Ah ok Quali siete? Uno qua caccatissimo Sì Sono dentro eh Traccato one shot Oh Una a terra C'è l'altro Quattro a terra È l'ultimo in teoria Vediamo se vuole unirsi a noi Hey man Hey man Stop 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 Do you wanna stay with us? Do you wanna stay with us? Ok come on Come on Come on Revive Revive Come on Come on Autoress Revive Revive Ok Put everything on the floor All the weapon on the floor Everything on the floor Now Now We want all your money Everything Everything Ok F*** off Avete visto? Avete visto come si fa così? C'è un grappolo ragazzi Prendetelo Bellissimo tutto ciò C'è un bombardo Va con per lo vi Che c'è la gente Pintorno Vabbè Riposto Qui c'è una maschera Hai capito? Che Ragazzi scusate Vai a con per lo vi Arrivo È troppo bello tutto ciò Ragazzi Cioè non avete Da tutti quelli Che arrivano a terra Hanno l'autoress Proprio di base Io sono lo shop Io inizio a fare così Shop io Arrivo anch'io Allora prendo C'è la gente tipo qua raga C'è la gente Ah guap non lo posso prendere Lascio soldi E io lo ho comprato ora Ti lascio i soldi anche a te bruse Hai qualcosa che può Vedere se posso Tieni Tieni i soldi Non posso neanche io Dai lascia i soldi Lo prendono loro Lascia i soldi Lo prendono loro Cosa prendo? Eh sì ma noi Ma noi non si vede Vabbè tieni Cosa prendo ragazzi? Ah è vero Guado guado vai Vai guado Ok ok Eh che c'è un bombardo Mannaggia la miseria Allora ne prendono Love e lo mando subito Oh persone Perché sparate Puttana Dove C'è gente c'è gente dentro Era c'è tutto accovacciato Sul tetto accovacciato Sul tetto accovacciato E non ce l'ho E che tiro E da me da me Ah c'è tu scusi 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 Sul tetto accovacciato Ragazzi attenti che tiro un bombi Occhio eh Da mi sparano Mi sparano Hanno fatto E questo E questo Dove 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 sei Eh non te lo so spiegare No Le abbiamo persi Adesso le abbiamo persi Mannaggia la miseria Perché Perché sistema di tutto E' lento E' lento E' strano Si deve abituare Ma tu stai giocando col pad Si Ma l'hai messo Che ti prende le cose subito Tipo L'impostazione Non lo so C'è l'impostazione Io non gioco Da pad Non lo so Però so che C'è sta cosa da cambiare Aggiungimi tu Panza Aggiungimi tu Devi fare punto esclamativo ID E ti esce il mio nickname Mandami la richiesta E ti accetto Non c'è questa Questa Una mia Avanzate forse Giroscopio No Dalle impostazioni del pad Immagino si faccia Non so di preciso Doppio scatto A terra automatico Noi mi metti Pensioni Controllere Allora E' controller Avanzate E' il penultimo Devi andare su controller Avanzate E poi devi sezionare La penultima voce E metti la seconda Ottimi no? Vai vai Ok io sono uscito dal gulag Bellale Dani grazie dei like Mario Giorgio Grazie anche a voi Ragazzi Benvenuti in chat Allora abbiamo detto Io sto ritornando da quelli là Tu sei lì Dove eravamo prima Aspetta un attimo Devo mettere Sovrimpressioni Io ci sto tornando intanto Ragazzi siete qua Ragazzi Ragazzi Ci siete Uh meno male Arrivo Sono sotto io Sono sotto Va vai vai Io ho fatto uno Ho fatto uno Grande Grande Si è tornato Ci vedo sotto Grandissimo Ce n'è un altro sotto Sei il mio amico Il mio amico O accanto a me Il mio amico Ok a posto Ok a posto Allora top Eh l'avete fatto Quel tizio che c'era qui Commovente come situazione Ci siamo rincontrati Commovente proprio Chi ore sono? No mi sto divertendo troppo Devo andare Porco No Passatemi a trovare In live ragazzi Così se ci dovessimo Perdere di vista Almeno ci possiamo Rincontrare Questo che fa Questo che fa Che cosa per l'endgame È il mio amico È il mio amico Sta sistemando Le impostazioni del pad Ho soldato nemico È il tuo amico Sì sono io Sì sì è il mio amico Grande Bentornato C'è un autoresse là dentro Che spettacolo Sì giusto sta cosa è bellissima Si ma lo fa troppo ridere Ragazzi Sì è un cazzo è roselto No è bellissimo E basta dai È bellissimo Sì sì è troppo divertente Oh ma facciamo una cassa muni Bruno Io sono senza muni Ti sto lasciando Cassa muni ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Non lo so come funziona Eh no ma c'è gente davanti a noi ragazzi qua sotto Tipo dietro la palla Eh ci sono io dietro la palla Ah ok sei tu Ok Dietro la rete Sono io dietro la palla Aspetta arrivo Sì 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 Quello che si troppa so io Quello che si troppa so io Io ho messo Un pingato Un autoressa Allora Prima Prima stavo sparando A quello che ti ho fatto Mi sei passato davanti Quella visuale Ma ha spostato la visuale Completamente Perché Eh certo Io non ho sparato neanche un colpo Questa è la mia assistita Allora ragazzi Teniamoci un attimo Sta posizione Vediamo un po' come va La situazione Che dite Sì Ci teniamo un attimo Belli alti Aspettiamo le chiusure Di 6 Non c'è quanto Ma che la Nella zona sicura Secondo me siamo messi bene Mi ha mandato la richiesta Non mi è arrivata Non mi è arrivata Però dopo controllo Il lobby Fratello Allora Che spettacolo Che spettacolo di gioco È bellissimo Quello di prima È stato bellissimo Vutto tutto per terra Vutto tutto per terra È arrivato un coso di tiro al posto Qualcuno li distruggiamo Cazzo Per me ci potrebbero anche segnalare Ma va Guarda Figurati Qui sotto tipo è arrivato Eccoli guarda Sì La Ragazzi Arrivo io So io Qui sotto So io Se vi arrivo dietro Non mi sparate Andiamoli a prendere Andiamo tutti i belli combatti Avengers Assemble Ti avviciniamo Ti avviciniamo È lì sotto Oh people 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 Tadà Ok Ho le mie gomme Ok Non mi sono Non mi sono Chi è che sta checkinando? No Quelli sono affatti Ok voi comunque ciò appena vedo uno c'è l'impulso è difficile eh sì abitudine è normale queste belle sandex ottimo andiamo al centro dai muoviamoci subito ci siete sì let's go facciamo tutto a bordo da destra o prendi vivaggiamente possiamo prendere tutti ma come si rende solo d'auto qua ma ma che cazzo ragazzi ma mia di strumento questa cosa mia come mai scusare ha segnato soprattutto come mai l'abbiamo preso tutti quanti comunque non ho colpi di aeree ma non c'è la miseria è perché quando lasci l'arma lascia pure la miseria se avete colpi di assalto ve li accetto qui sul tetto sei tu qua sotto c'è più di un team arriviamo ora sul tetto abbiamo la safe raga cerchiamo di anticiparli ho fatto un altro credevo fosse uno di voi ingegnere salti non penso mi comprando franzo è vero questa è andata peccato peccato è stata bella finché è durata sembra infatti non gli sparata quello l'ho guardata mezz'ora ce l'avevo lui era messo di spalle io non ho capito se erano nemici a un certo punto non lo so bello però voglio sparare a tutti come siamo all'impostazione mi dicevi allora allora aspetta simon me lo puoi riscrivere come si fa quella cosa del pad che non so come si faceva allora mandato non è questo comandi alternativi zaino no 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 e da impostazioni controller mi pare che avanzate è la penultima la penultima la penultima cosa vuol dire la penultima voce e poi devi mettere tipo la seconda ritovere leggi leggi ritardo ruota degli indicatori e devo mettere breve io non lo so se è quello non lo so non c'è la miseria non lo so non lo so funzionalità forse interagisci ricarica priorità all'interazione no questo è per quando tipo ricarico tempo transizione come cazzo giroscopica vettore gravitazionale io so cos'è il vettore gravitazionale ma tu Harry sei entrato? si si ah allora impediamo anche Enrico cambio le vette no ritardo disattivazione no ritardo posizione no funzionalità risulti mappa no ritardo ruota degli indicatori può essere eh ma può essere questa qua non lo so eh panza ma siamo già quattro fratello siamo già quattro ti ho accettato ti ho accettato non appena ci sarà posto ti invito panza mi sai dire come come si fa? eh lo sa Simo lo sa Simo che l'aveva scritto che è Simo? Simo Samba? no no Simone Chiarella l'aveva scritto poco fa però no Simone si sta prendendo il computer oh top non vi sento ma sei entrata? ti ha fatto entrare? io vedo che siamo tre in gruppo non sei qua con noi ti ha fatto uscire ti ha fatto uscire sicuro però l'avevo vista che era entrata prima eh mi da ora bloccato devi provare a partecipare tu vedi che ti fa fare aspetta che metto qua e magari si sbagga ok ti ho rinvitato troppe impostazioni ci sono si tantissime tantissime funziona a scavalcamento sporgente io non capisco niente frate che sto gioco come ora sono tipo scambio levette modalità merino ah la fennec piano piano ce l'ho quasi maxata buono io non so come si dice non te lo so dire come funziona questa porcheria ma vai dove sono tutti queste cose strane Cristina dovrebbe essere entrata penso cioè ma poi mi dice chi siamo ma tre insomma perché l'avevo vista di nuovo entrare vediamo parlando il mio paio chi c'è midrex ma no 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 ma non la vedo nemmeno io vi sentite? l'invito vediamo così? ok io non capisco com'era com'era f11 per mutarsi f9 f9 per disattivare tutto ah mi ha detto che l'ha crashato ma non spunto manco online ma io tu è un video vabbè già si in gruppo ah si si era qua per sistemare quattro cose mi ha detto che l'ha crashato un amico nel partish ciccio swifer ciccio te l'ho detto già siamo quattro fratello è entrata ciccio swifer eh lo so lo so attiva e disattiva richiesta amici button next moscio ciccio swifer swifer no rubare eh accidenti allora aspettiamo che l'ha detto che l'ha riavviato l'ha crashato pazza giochiamo giocheremo allora domani che giorno è domani mattina alle 11 devo andare a tagliarmi i capelli appena torno giochiamo ok non sta giocando allora c'è posto vieni ti invito di nuovo ciccio ti rinvito alla fine l'ha crashato di nuovo eh ma da xbox one quella vecchia cioè casino allora ciccio ciccio dove sei ciccio 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 dove sei dove sei riparteci ripartecipa tu se mi vedi eccolo è entrato ciccio ciccio top di gamma eccolo qua andiamo let's go let's go mi senti ciccio 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 Simo Simo allora la mattina ti aspetto per fare le rapine insieme. Io mi voglio licenziare perché voglio nerdare. Pensate che mi cacciano di casa? Sì, è una di quelle cose che sono molto probabili. Ma vero... Ma vero che cosa? Bello, bello, bello veramente sto gioco. Ma si possono vedere da qualche parte tipo le statistiche, queste cose qua? No, sono dei multigiocatori mi hanno detto che si possono vedere. Ah, quindi per ora ancora non si possono vedere. Ma che io già sono bello agguerrito qua? Ho fatto un po' di belle partite. Le hai fatte la nuke? No, ancora no. Per fare la nuke non ho capito se si devono vincere tre partite di fila, tipo... E poi si può fare. E poi che succede? Tipo vinci tre partite di fila, poi devi andare in un posto ad attivare sta nuke e non so come funziona onestamente, non ho idea. Ho visto un video di Velox io, che tipo pensavano alla bomba e arrivavano tutti per... Ogni volta, mamma mia, bastardi. Madonna, Mario... 5 di fila, 5 di fila per la nuke, mi dicono. 5 di fila se ne devono vincere. Ce l'avevo messo nell'aula del monito. Ci devono dare, secondo me, un mese di nerdità... Un po' di tempo e lo facciamo. Però un mare è difficile, perché io non posso nerdare a pieno regime, perché è questo quello che mi disturba. Io voglio nerdare a pieno regime, non voglio un mare tipo l'epilessia. Eh già, 5 di fila e poi alla sesta partita ti dà il contratto dei campioni. Ok, ecco come funziona. Quindi ti dà un contratto fatto apposta per prendere la cosa, la come cazzo si chiama. La nuke. Ste, siamo quattro, siamo quattro, ste. Siamo già quattro. Io non sento però a ciccio sua. No, ciccio nemmeno io lo sento. Ciccio, ci sei e mi senti in live? Ci sei, fra? Vabbè, forse non ha il microfono, boh. Non saprei. No, ti hai fatto la prima? Grande, 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 ste, bravissimo. Io non l'ho mai fatta, se per favore me la faccio fare. Ora la facciamo, ora la facciamo. Dai, dai, questa cosa la vogliamo vincere, questa la possiamo vincere, ragazzi. Ora ti mazzo tutti, ma ti te lo dico. Eccolo ciccio, come andiamo? Ciccio, tutto bene? No, è mio figlio che mi ha staccato la... Io, what up, guys? Ah, vai tranquillo, vai tranquillo. Allora che si dice? Adesso ci sana. Dai, allora la vinciamo questa partita. Però dobbiamo scrivere come stamattina con Nabbo, l'amuleto. Se non scriviamo mi piace o pesce in chat, non possiamo vincere, mi sa. Io te l'ho già scritto. No, lo dobbiamo scrivere in chat qua nella partita, in chat della partita. Ma io te l'ho già scritto, beh. Papà! No, il video è solo livellato. Va bene, va bene, ste. Papà! Basta scherzare. Inizia la vera battaglia. Gli armi stai usando, ste, eh? Ah, giusto, però grazie dei like, raga. Allora, hai il portino? Che è il mio sport preferito? Papà! Mi sa che ti sta chiamando tuo figlio, Ciccio. Mi piace o pesce, importantissimo. Quindi, dove? Airport. No, mi dissocio. Non le mettete, regà, non le mettete di sti suoni. Ma che cazzo è? Ma... Ma... Ma se no ho gli alert di qualcuno, no? Ma che cazzo non so, non lo so. Sarà Ciccio? Beh? Sarà Ciccio con qualche alert strano? Cosa? Non so, sentivo dei suoni particolari. O era qualcuno che aveva fatto qualche suono. Ma chi è? Ma chi è? Eh, ma che cazzo è Ciccio, Ciccio, sicuro. Eccolo. Ah, ma c'è tipo la sound machine? Tipo quella cosa là. Eccolo. Minchia, questo qua è bellissimo da farglielo sentire con la chat di prossimità. Madonna, madonna. Sì, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego. Appena becchiamo qualcuno che non riesco a prendere come amico, Ti prego, ti prego, fagli tipo queste cose. Ti vuoi qualche scorreggio. Gli faccio solo in bagno e metti e tiri lo sciacquone, magari. Ah, raga, ma sta laggando. Aspetta che è quinto, che fallo. Aspetta che è quinto. Oh, mi hai buttato fuori. Eh, stava laggando, raga, era tutta laggante. Non si sistemano mai sti log. Ancora. Basta, basta. Ti prego, soltanto fallo ghittando durante la partita, non lo fare a ripetizione. Ti prego. Ti prego. Si sta laggando al bagno, se no ci sono in cucina. Capito. Mi è arrivato da me qua un messaggio. I sussurri. I sussurri al paolo. È vuoto, è vuoto. Di che sei amicizia? Ho fatto due livelli senza motivo. Di nuovo, no. Era il livello 1, sono al 3. Ma sì, ma li fai subito. Cioè, si livella facilmente perché ancora è tutto buggato. Ma io spero che al carrello si possa comprare tipo pure la Fennec. Cioè, perché a quanto ho capito, si possono comprare solo le armi principali. Tipo, non puoi comprare le armi tipo... Ma cos'è? Una zanzara questa? Mi fa scassare. Lo muterò. Ti muterò in partita, ciccio. Lo farò probabilmente. Ma no. No, scherzo. Scherzo. No, però appena abbecchiamo qualcuno che lo metto a terra in quel modo che gli faccio tipo la rapina. Però glielo devi fare tipo che gli faccio... Magari se sentiamo qualcuno gli dico dove sei? Mi dico io sono in bagno e tiri lo sciacquone. Tipo queste cose. Se cos'è qua top. Troppo casino ogni volta inizio l'op. Mamma mia, è fastidio sta cosa. Allora. M4, Mp7 oppure Fennec e cecchino. Ho capito, ho capito. Stai. Io sto usando invece EBR e Fennec. Mi sto trovando molto molto bene. L'EBR è devastante. Andiamoci a portare questa vittoria. Ma perché sono in shorts? Guarda ciccio la santa. M4, Mp7. 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 Devo un pochino cosa ci aspetta in questa partitozza. Nemico in arrivo nell'area. Ip7. Chissono me. Questa che arma è questa qua? Che ci abbiamo? F-Tac Re con un altro colpo singolo interessante. Non sa che fa più danno all'EBR però. allora guys ma mi senti ciccio non so se sono mutato in gioco per cambiare arma si può fare solo con la rodellina in avanti no non puoi mettere l'angere nei tasti e puli presso uno ti senti ciccio? ok per fare non forse ero mutato in gioco allora ragazzi dai dai questa qua poi proviamo a vincere la cazzo facciamo la serie andiamo alla fazzo andiamo andiamo devo prendere sto contratto vediamo che succede mi dissocio mi dissocio proprio fortemente vedo cose bruttissime forse c'è un team c'è nessuno Niente pare che sia pulito C'è gente eh No eh ho mancato il tetto Allora andiamoci a fare queste casse Questo è tipo il nuovo sciacallo Praticamente Oh ho sentito spari Allora un team è andato di poverso lì ragazzi Ma da me potrebbe esserci gente Bottano sei bottano Chi spara? Io no Sono avanti alle casse Vediamo un po' Ah è una gradova Bombardamento Oh la pistola aria animante Rega questa è una bomba Io ci ho Le piastre Ce lo combino Eh vedi se ce l'hai sul tre Mi pare che di base è sul tre Ma io sento solo te Eh perché i ragazzi forse sono mutati in gioco No io ce l'ho Ce l'ho Non vi sento Ecco questo l'ho sentito Io lo sento Io lo sento allora Ah e forse avete il microfono mutato Con F11 vi smutate Prova Ora Adesso Vi sentite? Prova Io no io non sono mutato Ciccio Non lo so ragazzi Che ce l'ho Non va Niente da fare Simone mi ha scritto una cosa interessante Mi ha scritto Ho mai detto Ha diventato una seggia d'ufficio Ma qui si Simo samba Ah scurita C'è lì Va bene Vabbè Vici Cinque e mezzo Corsare di gioco Do scendere in direccio Se vi riquessi C'è l'ho Ma perché non mi mette Bu Non capisco Forse lo so perché non mi sente Forse Dovete attivare Che ne so Chat di qualche cosa Che non lo so ragazzi Non ho idea Ci sono troppo in postazione Ma forse qua da me c'è gente Ah ok Pronti Ciccio Pronto Dove Mi sentite ora Etta No Ciao Michael Buongiorno bello Eccolo 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 Ho appena scaricato Ho scaricato Ho scaricato l'aggiornamento Mi senti Mi senti No Oh ciccio mi raccomando Se becchiamo qualcuno Ti prego Me lo devi fare Proprio al momento giusto Gli dico Vedi che io sono in bagno Non mi credi E tu ti rilasciacquano Ti prego Ma sei tu quella In zona Come come Si sono io questo Grazie Grazie La skin appena l'ho vista L'ho comprata Instant Lo caccato al bosco Oh L'ho attaccato io L'ho attaccato io Vediamo ora Oh pronto con il cesso Mi buscino Mi buscino Mi buscino sicuro 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 In quello ci siamo Troppo gente Zero colpi a segno Zero Io non ho fatto No Io ho uno a terra Fatto No 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 Da dietro No Assolutamente Michael Ma devo fare pericolo Ma io non si fanno le piastre Devi mettere anche Che ti mette tutte le piastre di fila Vi dovete impostare tutto ragazzi È gioco nuovo Dovete fare proprio tutto da zero Lanciarazzi sotto la bocca Top di campo No, è male però con lanciarazzi Pergugna Ma si c'è di juggerna Si può fare, si può uccidere Mi hanno detto però non so cosa succede Sto arrivando Eh prendi un contratto ciccio vedi che trovi Vedi se trovi uno scassinamento Qualcosa Ma suca sto scendendo adesso Eh si ma siccome sei solo tu Magari prendi un contratto Così appena torniamo Le prendiamo anche noi Vediamo se nelle info Andiamo adesso Andiamo adesso Vieni vieni Aia mi ha tirato la netta addosso Ma che sfiga Ma l'altro a sinistra Eh per caso Non lo sentite Quello mi ha tirato una netta addosso Vedi un po' che trovi ciccio Vedi un po' che puoi fare No fra l'evale Porco giudo Mannaggia alla miseria Ma che palle ste cose Però GG Eh se si uccise Secondo io Entrano tutti qua Figo Non lo sapevo Niente Non mi posso smutare Regà Non mi posso smutare Perché ha deciso di mettere la musica Mannaggia alla miseria Ciccio Ah la prossima Lo butto fuori Regà Eh non si fa così Mannaggia alla miseria Ciccio Non la mettere più la musica Ti prego Come cazzo Faccio vedere tipo le statistiche Martina Cazzo c'era i contratti Questa è una taglia Eh qua c'è una taglia Poi questo Fatti questo qua Quello che ti ho segnato Che la taglia Non è che ti faccia prendere soldi No 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 ma prendi quello che ti ho segnato Lasciala perdere la taglia Prendi questo qua sotto Comunque mi hanno detto Se si uccide il secondino Dentro il gulag Risponono tutti e quattro Quindi si ci può alleare Con i nemici Per uccidere il secondino In realtà E tornare tutti Quindi questa è un'altra cosa Che farò assolutamente Eccolo Bello Eh magari aveva dei soldi Perché stava scioppando Quello là Eh minacce 3 pure G Sono state individuate Casseforti nemiche Contenenti equipaggiamento prezioso Svuotale Soldi lì a sinistra Sul tavolo c'erano soldi dietro Oh madonna C'era un po' di tutto Ce l'hanno sia soldi Che perso Sì 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 Decisamente Questa qua È stata buttata Proprio nel cesso Che cazzo è sto rumore Quanto tempo ci ho messo Per imparare Mouse e tastiera Michael Beh un po' ci ho messo Devo dirti la verità Ci ho messo penso Un sei mesi Allora Vedi un paio di mesi Per imparare Un sei mesi Per padroneggiarla bene Per essere proprio confident Col movement Da mouse e tastiera Bene o male Oh madonna Ma chi è il ciccio Che fa sto casino Ok Io dovrei Averla sistemata Questa cosa Oh no Allora Vediamo Perché se no mi sbaglio Tra l'altro C'è anche un'impostazione audio Che ti fa disattivare Il volume Di tutti quelli Che senti all'inizio partita Da qualche parte Vediamo C'è stracorazzata B Lascia oggetto Per metterla Boh Penso B Facciamo B e E B Pronto? Mi sentite? Sì 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 Un problema Un problema La testicuzione A metà Allora Ma Smuggato Qualcos'altro Qua no La Fennec Per esempio Si potenza Si maxa Al 27 Allora Allora Ma Ma C'erano Passire Mondiali No No Ciao Peppe Inghilterra Iron È solamente 3 a 0 Madonna Ho fatto Un altro Un altro Buone Una Ma Senti Ma non si sta Parta Ma non è partita Partito Partito Ora Io sono Ancora Nel Staccato Per ora Sì Perché mi ha detto Falsava scaricando Code Barrettando pulpi E mi ha detto Nel frattempo Che stia scaricando Mi faccio Due cose Studi Quindi tipo Il computer dice Non lo toccava Per questo era mutato Così Non gli dà problemi Download Bello Eh la Deborah Grazie del like Che cazzo dice Questo è Etla Etla Bello Tolle Deutsche Den du Spass Negano 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 Rescaldamento Finito Preparate Al lancio Sulla zona Di guerra mamma mia la chat di prossimità mi fa piccerelle risate eccomi raga era mutato scusate non c'è Bruno non c'è Bruno non c'è Bruno non c'è Bruno ma che cazzo però ma a me mi sponda che sono in gruppo con voi infatti non capisco vabbè è tutto rotto questo gioco noi siamo fare amicizia con te gricka 22 gricka 22 vuole fare amicizia con me ok cristiana si ora forse sono con voi mi sponda che sono in attesa ora sei qua anche a me sconde la testa allora posso avviare penso di sì cioè ti lo vedi che ho avviato ok vediamo un po' ma gricka 22 c'è? non so forse sta ah no mi ha detto che praticamente l'aveva scaricata ma mi sa che l'ha scaricato solo DMZ perché ora le sta facendo riscaricare tutto il giorno ah ok ok quindi penso per questo ahiaiaiai ma è uno dell'aù non cerco le cazzo è vediamo ahiaiai ahiaiai nooo mi ha crashato regà un'altra volta mamma che palle regà che palle che palle mi ha crashato di nuovo che palle come? si arrivo arrivo che palle è la seconda volta oggi che mi crash è ancora un po' rottino dai però minchia rispetto a warzone 1 all'inizio non c'è paragone ragazzi c'è warzone 1 all'inizio c'erano le maschere che duravano tutta la partita le siringhe infinite dai cioè non c'è paragone questo gioco anzi è fatto benissimo eh ma sono crashato panza sono crashato ora quindi lo riavviamo o no sto gioco andrà in video in giù c'è ok 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 Io sono al cesso No come sei al cesso No 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 mi fido Mi fido Allora vi invito ragazzi Dove siete Dove siete Dove siete Eccolo Uno Allora Bella Peppe Grazie del like Grazie mille del follow E benvenuto nella family Allora Ok Bruno Ci sono Mangacicci Sì Subito 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 Allora 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 Dove 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 Ciccio Non lo trovo Non lo trovo Perché non sono in ordine alfabetico i nomi Maledizione Eccolo Ciccio Swiffer Top Ma porco Ma mi sai che è realmente al cesso Ciccio Comunque Ah vabbè è stato ragazzo nell'ultimo Faccio un terzo Ah eccolo qua Eccolo qua Perfetto Top di gamma Puoi giocare questa con mouse e tastiera? Sì ma questo gioco è da mouse e tastiera Comunque Come lo sai perché non ci gioco mouse e tastiera? Perché ho paura Divento troppo forte E poi devo arrivare e devo togliere un bari posto a tanti propri eri italiani Capito? Certo lo capisco Lo capisco Mi capisci Mi capisci Capito? Non vorrei Non vorrei fare questa cosa Poi sembra male Perché sono una persona per beni Sì 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 Bella Gianluigi grazie del like Non ti sento in guffia Come non mi senti? Mi senti? Forse sono ancora mutato Sì Sì Ma è perché ero mutato nel Siccome il suo gioco è fatto male Quando ti muti o ti smuti Non ti spunta scritto da nessuna parte Quindi non sapevo Non so se sono mutato o smutato Ma che sei strunz Ah anche Magari anche quello può essere No però veramente Cioè non Non lo capisci Se sei mutato o smutato Il suo gioco Infatti ogni volta Faccio attentativi Se sei troppo strunz Eh forse è per quello Vero Per la stronzaggine Minchia è troppo bella Questa cosa La voglio comprare Una Una anche io Ah è un app Top Come si chiama? Voice mode Ah è voice mode Ok 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 Allora già ce l'ho Tra l'altro Eh ma poi se fai tipo La Compri La Cazzo di cosa A vita Ti arrivano le notifiche Di roba nuova Puoi spegnere Ci vale qua Vabbè ci sta Magari lo provo Ah voglio Ah voglio Ma in caso lo provo Non lo faccio Cioè Perché non l'ho Cioè L'ho usato un po' Però poi uso clownfish In realtà Per quello utilizzo Zanzara Poi la prendo Una cecchinata Gli tiro Io Ricciardo Terzo pilota Della red Che vergogna 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 Giettoni pie Non ne abbiamo Vero? Minchia Ce ne ho uno Di pie doppi Vabbè Metto 30 minuti Proprio per la partita Cristina mi ha detto Che le ha finito Ora di scaricare Preparate l'attrezzatura Manca poco Allora Dai questa qua ragazzi Essendo che è l'ultima Giochiamocela più ragionata Proviamo a fare un bel piazzamento Dai Anche che non andiamo a pushare Proprio la voglio portare A provare A portare in finale Dai dai Sta partita Giuro che non trollo Manco la gente Se incontriamo qualcuno In chat di prossimità La disattivo Proprio Sta partita Ah devo tenere premuto Per cosa? Per le piastre? Per mettermi Ste piastre Sì ma tu C'è l'impostazione Che la puoi Puoi fare Che si mettono In automatico Tutte Non mi ricordo Da dove Ma si può fare Sì l'ho fatto Vabbè Ma sarà rotto Comunque ci sono Un paio di mitraglioni Troppo forti Su sto gioco Ragazzi Allora dove andiamo Io rivelo Se non avessi Usava tipo uno Simile allo stoner No ce sono Bello bello Lo stoner Ce ne sono Un paio forti I mitraglioni C'è PKM Di questo Si chiama RPK Che è troppo forte C'è un laser Ma sai che è quello RPK Mi pare che si chiama Se posso No già vi siamo 4 Comunque sto facendo L'ultima Ok andiamo Acqua Dissocio dalla chat Scrivo una cosa Allucinante Comunque Meno male che c'ho la facecam Di sopra Sempre la webcam Non si vede la chat scritta Perché veramente Mi sparano Occhio c'è uno qui Brucciole tu davanti Mi sono buttato L'errico Ne abbiamo uno qua Ciccio sotto Ma Pid Davvero Senza Ho visto Oh sono Sono un altro fuori Ma che cazzo Eh l'ho hittato Ma uno per mettersi La terza piastra Cosa deve fare Devi trovare La sacca Allora per questo Ma poi devi trovare Anche lo zaino Dentro lo zaino Puoi portarti La terza arma Cioè puoi tenere Tre armi addosso Arrivo Sono un attimo Al vulagghe Gela calta Se non sei Siciliano Boh Non so chi potrebbe essere Siciliano Ciccio Se ne è andato a rubare No È crashato Bella Non è andato il tizio Casi stanno Ma c'è il tanno Quattro fotte Quindi sembra il massimo Di piastra E tre Ma l'ho perso Sto tizio Nel guadal Ah visto One shot Questo arrivo Un graffalino 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 Se ne sono tre Enrico Arrivo da voi Ragazzi Vi vengo aiutare Sono lì Ok Sì 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 Ho visto Ho lanciamissile Non ho per niente Paura De usare A terra uno Aspetta che mi tiro Una cassa di muni Lasso delle munizioni qui Bella È cattato un altro Un altro a terra Vai è spaccato È spaccato Un star ma Da dietro Mangia Vado qui Va bene Sono tutte e due sotto Sotto Sì Un altro 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 team Un altro team Buona Bravissima Bravissima Te l'avaritto Vedi Te l'avaritto Sono male Io ero anniato Quindi siamo Due e due Contro altri Allora Mi servono Un attimino Ecco Questo Questo mitraglione Qua è fortissimo Questo che ho trovato Rpk Eh Vabbè Però Lo sono messo Bene ad armi C'è sto coso Sto vaz Neck 9k Che è Brutale Eh ma Ce ne sono tante Armi forti Quella non è Mango tra le più Forti Ti dirò E non è Scarsa Cioè Ce ne sono Troppe Ma Per esempio Vedi La fennec È quella Che mi piace Più di tutte Però il pino Manda Un radio Di fuoco Che è Bellissimo Perché le cose Che si lasciano A terra Poi non si possono Più riprendere Eh ma Si può Però è che è un po' Buggato La dovranno Fixare Sta cosa Cioè C'è Stai tre ore Madonna L'ho fatte tutte e due Io Acchiappate Cessi Arrivo Che bello Dove mi conviene Andarmi Da noi Da noi Dove siamo No La shop Sì 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 Quelli Li hai fatte Tutti Poi c'è Questa Vorrei Dei soldi Tre piastri C'era una Fenne Che cazzo Devo fare Ora qua Come si Come si fa Con lo zaino Ah ma qua c'è una Cassaforte C'è una Cassaforte Dei contratti Di Come cazzo Si chiama Tipo Scassinamento Quindi qualcuno La verrà a prendere Probabilmente Stai arrivando Un elicottero Potrebbero essere Loro Qua si è scoppiata Quella cassa Che dicevi tu La senti Mi sa che sono Invece le altre Ah qui E qui Sono le altre Madonna hanno tirato Un grappolo qua Ma che cazzo Ma c'è gente qua Stavano fai tanto Sopra sto ponte C'è gente al ping Viola Cioè al ping Qua mio Sì sì Ecco lì Sta arrivando Un team dal ponte Che sta crossando Forse mi è sembrato Di vedere Abbiamo gente Forse qua dietro Dove dove Tipo sotto Accanto la mia casa Eh perché stava venendo Lì sicuro Eccoli Lì l'ho fatto Me l'ho segnato Ragazzi Staccato One shot Che l'altro Bello Giuri dietro Giuri forse dietro No Un tizio con la macchina Ok fatto Non c'è la miseria Quanti sono Ti ho fermato la macchina Aspetta che mi devo mettere piastro Se ho perso mal Sparano da dietro ancora Sul ponte Sul ponte Uno Tutti in the face Un altro in fondo al ponte Non ci arriva da qua sotto La mia gregietta Sono una R Un altro in fondo Non ho più munizioni di niente Vai 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 Fatevelo voi raga Vi prego No arrezzato Arrezzato Non ci credo Sono due Che palle Quello Che la macchina Madre Non so Ve lo fate Ve lo fate Quello sulla macchina Ma Aspetta Se torno indietro Ve lo fate Quello sulla macchina No li avete fatti tutti Ragazzi Ma vai Ve lo fate Questo sulla macchina Un coglione Ma che cazzo fa E' morto Lo ucciso Brutto E' cicci Mi mania Tutta Non cazzo Ma ti possiamo restare Se volete C'è un'altra macchina Dietro Ma che cazzo E' sto casino E' sceso Un'altra macchina Dietro Ragazzi Occhio Non state tanto Allutare Andiamo 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 Alla shop Andiamo Alla shop Grande Grande Peppe Non ti preoccupare Andiamo 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 Ma No Non ci voglio Mare Dai Veramente Tutte Così Un attorno Però C'è I tuoi soldi Quindi Non ci posso andare A restare No Dai una mano Dai una mano Sopra il tetto L'hai visto Alla tua sinistra No no Occhio che cadi giù Aspetta Esatto Run A sinistra Da qua puoi salire A sinistra E se ti arrabbi Però C'è un'altra Mi sale Che gioco Di merda Andiamo Alla shop Andiamo Alla shop Fatti Tenei Eh ma Dai dai Corri Credo natalizio Periodo frenetico Per tutti È normale Che eravamo fatti I tre Ho tanti a te Fra tanti a te Fra 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 Ma è brum Ma è perché Non mi spondono Della visuale Dei giocatori Non sponde Il nickname Di sopra Che come te li lascio I soldi Bru Col tab Ok drone bomba Che maledizione All'oro C'è gente vicino Lì in zona State attenti Eh Ma è resta L'ora Resta l'ora Prima che push Come devi lasci I soldi Con tab Eh non ce l'ho Io tab Qua Sto bene Penso con lo stesso Che lo facevi Su warzone In basso In basso Al centro In basso Al centro C'è scritto Zaino Mi dice punti interrogativi Non ce l'ho Ok Allora Shoppa Tu Ti arrivo Ti aspargo Sì Arrivo Ok La devi settare La devi settare Sì Ma tutto Io il primo giorno Sono stato Un'oretta A settare Solo tasche Ce l'ho fatto In panico Lì da quelli Esca gonfiabile Ci sono Qua sopra c'era Del lotto Sì dove era morto Quello Ci vado L'aroma Messo e te l'altri Due Allora Spara Non so Giuli Qua ci sono Muomi Comunque lo sai Che quando Tipo Emergenza Devo spiegare A mia figlia Che il cane Dal veterinario Non torna più No ma mi dissocio Ma brutta storia Cazzo Mi spiace Mi dispiace Certo Spiegarla a tua figlia Non deve essere facile Non saprei cosa dirti Ciccio Non saprei aiutarti In questa situazione Mannaggia Stavo dicendo Me lo sono dimenticato Che cane Dal veterinario No prima di quello Stavo dicendo Qualcos'altro 9 kg Così serio Oh mi sparano Da qui tipo Sì Eccoli Ok Ma come me l'avete Scammato Di previsione Mamma mia Ci sta Ci sta Ma insomma Guarda qua Ce ne sono un sacco Ragazzi Sono tutti qua Oh grappolino Non me ne raccordo Cazzo Ma c'è chi non Deve fare Tu vedo Eh ma non lo vedo Nemmeno io li vedo Finisci il drappo Oh madonna Mi hanno fatto malissimo No No Ma posso Sopra questa torre Mi sa Che è Tipo qua Mi metto in una posizione Un po' più safe Completamente In mare Ma non ho sparato Da quella direzione Lì Non l'ho visto Manco io Per bene Ma deve essere Sulla Madonna mia Madonna Madonna Eh ma non c'è un posto Dove mettermi safe Qua Forse solo così Sono Tipo di lungo Lungo Ecco Così Mi stanno venendo a pushare Mi sanno tirato Una granata qua Sì un'altra Ah sei fuori tu Sì Oh arrivo arrivo dal ponte Un'altra qua A meno altri due Arrivo No No Io no Madonna Fra 10 Kille E' vero Con gli shorts Si inganna Pazza e vero Speriamo 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 Che mi dà Un compagno Gente Questa mattina Vedi che Questa mattina Vedi 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 Ma sono Belli Ragazzi Ma io voglio Provare Quelli Tipo Uccidere Il secondino Voglio Provare Troppo Vedi Vedi Questo Potrebbe Sare 24 persone In vita Tu Considere Che a fine Safe Arrivi Che ce ne sono 30 Ancora Vivi All'ultima Sera Non ci sono Kitter Ma perché Non sono Entrati Questi Colpi Ma è Buggato Madonna Ma quello Spala Cioè Io Non ci stare Fermo Lì Mettiti Sopra La passerella Sinistra E meno Hai l'altezza Dietro Di te Ecco Di là Bravo Dritto Qua Chi Sta Facendo Sta Dormendo Completamente Vedi 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 Non era Questo Il Stacco Vi saluto Ci Aggiorniamo Ma Ciao Ciao Ragazzi Buon pomeriggio Buon proseguimento Ciao Ciao Ok Dovrei essere uscito Ragazzuoli Detto ciò Vi ringrazio Per il supporto Ho preso Pesce L'ho preso Decisamente Decisamente Detto ciò Vi ringrazio Come sempre Del supporto Noi ci ribecchiamo In live Direttamente Stasera Con GTA Scusate Stavo morendo Con GTA E poi Con Warzone 2 Quindi signori A più tardi Un bacio Ciao ragazzi Buona serata